Ok Google, informazioni su Barbara D'Urso Grazie, suona Mad World su Spotify Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Fabi J Oggi siamo su Venerdì 13 E' un video che avevo registrato con Sascha, che aveva fatto uscire sul suo canale Dalla mio punto di vista, io ero Jason e ho fatto cose incredibili Vi lascio il video perché merita un sacco Buona visione Eccolo lì, attenzione, bene, benissimo Eh forse siamo noi Potremmo essere noi, si è il classico Gizmi Vediamo Attenzione, attenzione E invece no Amici Amici, amici arrivo Questa che io non volevo, oggi non volevo fare, non c'avevo voglia Ho detto no vabbè oggi faccia basta Jason Io ho già la faccia depressa Ragazzi sto arrivando Io mi chiudo a chiave Nell'ammadio, chiuditi nell'ammadio Adesso c'è una macchina, buongiorno Non sono io Non sono io Oh salve, ho sentito urlare gente, oh ma questo è scemo Aspetta è che mi volevo chiudere nell'ammadio Una mira veramente che Non so spazio Madonna che male, eccolo qua Mamma mia che male Eri tu Amici Ciao amici Eh vabbè cosa fa quello Non c'era il campanello quindi devo crearmi l'apertura Salve Madonna Ma no Ma no vabbè Che male Mi ha distratto, mi ha fatto ridere Aspetta che l'ammazzo Ah Sasha guardalo, guardalo Sasha Guarda come muore bene Aspetta eh Adesso l'ammazzo Non c'ho neanche da picchiarti, da usarlo in realtà No ma come? Vabbè allora senti sai cosa c'è? Chi è stato? Pesante questo Allora io me ne vado a cercare un'arma Comunque facciamo Ciao Si Eh là dove è passato? Dove sei passato? Dove? Ma io non ho mai visto quella panda 4x4 andare per i boschi Mai visto Io ho sempre visto schiantare su questa macchina qua Fermati E' divertentissimo vedere che è andata in giro Fammi Prendimi Raga adesso sarà divertentissimo Sono qua Sono qua Ha messo la musica uno Cosa vedo? E' stato bellissimo Rompila Lore Allora basta Il conducente è infatti Puoi ammazzare il conducente Puoi ammazzare Mi sa che sta morendo un po' la dita Anche se non Mi sa che è morta Mi sa che sta morendo anche l'altro Non fatti fuori due è stato bellissimo No 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 ho preso le cure E' stato proprio divertente Ma amica Adesso c'è quello del Jersey Shore Amica Ciao Jersey Shore Sacino Io sto solo cercando di aiutare i miei amici Com'è che ho guardato prima nel Senti Jarvis Ha rotto pure le balle brutto oddio sembro pietro che cazzo di schifo a chi hai detto cazzo di schifo a chi hai detto cazzo di schifo a chi hai detto a chi hai detto a chi hai detto sascino manchi solo tu la vedi questa faccia dammi un bel limone volevo soltanto essere suo amico le do un bacino facciamo così se proprio non ricambia l'amore io le voglio solo dare un bacino va bene va bene guardi eccolo qua un bacino allora può andare grazie può andare può andare grazie può andare ciao polizia resisti vedere quando mi spara la polizia che succede mi hanno sparato tu ucciso raga chi fa la spia non è figlio di mario non è possibile sono io sono una zio ma per una volta tu una volta io c'è all'inizio vogliamo farti tutti jason per una volta che vogliamo giocare insieme non jason siamo già tutti e due no non ci credo vabbè lorenzo potremmo patteggiare dove c'è l'attaccata la flashlight questa c'è il costume la bagno alla milza la cucina c'è l'attaccata al niente sono io questo ciao aiuto perché non lo può entrare da voi ai io ho preso la trappola che male mi piace sto gioco io posso ripiazzare la trappola che loro hanno messo perché tra tutte le trappole che hai pensato hai presa tu la mia e l'ho presa io l'ho presa io lo giuro uno sta lì è nell'acqua deficiente quello è quello della no ma perché hai messo trappolo ovunque che male aia porca vacca ho trovato una mazza di baseball ti salvo io amico eh invece che male che ti faccio eh che male che ti faccio ti sto facendo malissimo eh non ne puoi più eh ah ti ho atterrato ah sei mio adesso grazie ti faccio di un ma... ma hai fatto diventare l'assato di Leonardo da Vinci mi sono bloccato ma hai incriccato niente hai incriccato tutta la schiena aspetta aspetta aiuto aiuto ma quale che l'infido questa aia stammi lontano manesco ma come ma ormai i jason non resistono più cioè ma jason è un pezzo di mollica ormai non è chiusa un omacione cattivo comunque eh qui non mi sta dando indizi signor Lorenzo eh stanno lì stanno non stanno qui aiuto non stanno stanno nell'altre porte ma chi è che mette ste robe in casa? ma chi è il deficiente? vabbè che schifo ma cos'è? ma chi è che abita qui? ma dai ma è la casa di Tommy Jarvis questa sono praticamente eh ma vabbè ma non puoi essere così impedito eh dove c'è la trappa? non puoi essere così impedito Jason c'è Jason mia mia aia bha azเป aspetta aspetta che questo sono io questo è mio fucile no t'hai già trovata can i germet sono bravo a sparare hai visto? come i girarmen come i girarmen come i girarmen non puoi correre all'inferito quella fucosella mamma mia che male E' la posizione di Sabrina questa Ma cosa vuol dire la posizione di Sabrina Ciao amica mi presti i vestiti Che io non ce li ho Per favore Devo velo dire ma mi sa che sono il coltellino Aia ma cosa sta succedendo Ho preso l'elica Fallo fuori Dai Ma cosa No 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 Non lo dicono Ciao amici If you want a passaggio Come to the boat Because I traghetto the people Che z'è il traghettatore di anime Hai preso la barca Traghettatore di anima Come down for this bridge I have the barca Allora voglio ammazzare tutti e farmi un giro in barca con te Lizzy come here we can live together Ho rimorchiato su venerdì 13 Zitto zitto E' una tipa questa Ho preso l'uomo Vuoi dire grazie a me We're safe We're the best player Schifoso Tommaso che non sei altro And Jason wasn't mio amico I win Because I'm bravo Ah ok Giusto da Vedi lei ha detto Ha provato Oh thank you Oh che carina Mi ha ringraziato Ho rimorchiato su venerdì 13 E' così che si conquista la figa Aspetta che chiamo Pietro e glielo dico Pietro Ho rimorchiato su venerdì 13 Si? Si una tipa l'ho salvata E mi ha detto thank you Ah a posto A posto E' tutto registrato Hai visto Solo a casa tua Devo venire più spesso qua Ok google Ok google Ok google Ok Vaffan google Vabbè ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come se vi è piaciuto Mi piace anche Vari i social E come vi trovate nella descrizione Ricordatevi che Scappare con la barca E' sempre la soluzione Salvini è d'accordo Come se vi è piaciuto Mi piace anche Vari i social Come vi trovate nella descrizione Sono andato con i siti di iscrivetevi E noi ci vediamo Alla prossima video Dai ragazzi Ok google Stop Grazie a tutti